Prendo l'ottava e ho... Infatti questo trick si chiama BAM WALK quindi camminata di sedere oppure MAN EATER secondo un pugno dello stile quindi la mangio trife di uomini e portarlo in avanti sollevo e cammino sollevo e cammino sollevo e cammino sollevo e cammino vado a spingere con le mani contro il pavimento così come ho fatto prima per la pirouette si? sono sedere mani e sedere sono sempre collegata ecco, questo ogni tanto ci sono nei meandri della mia testa informazioni un po' che tanto è nascosta si chiama anche Octopus soprattutto nello stile australiano quindi tutta bella inarcata e signorina 1. il movimento deve essere lento e controllato 2. deve essere armonico cioè nelle ripetizioni deve essere costante non devo avere dei cambi di ritmo di ritmo o di spazio o di distanza tra una gamba all'altra quindi posso decidere di nuotare piccolo piccolo posso anche ampliare la falcata della nuotata è bellissimo comunque in ogni caso quello che tendo è che devo essere costante in questo movimento adesso la qualità della toccola che faccio sul pavimento non voglio buttare lì le gambe lo sia a casaccia ma deve essere tutta una toccola lenta tonda liquida ipnotica ok questa è la parola ipnotica con la mano libera ovviamente accompagna la mia toccolina però questa è una questione di stile quindi è un momento libero in cui il braccio libero fa quello che io non vi dirò di fare quindi che assolutamente deciderete voi secondo la vostra natura di fare posso tenere la mano ferma posso accarezzarmi mentre sto piccolando posso prendermi il capello posso alternare queste cose e assecondare il mio mood ogni volta che ballo la coreografia a seconda di quello che mi viene quindi questa pirouette ok qui giro alla gamba ok oggi mi sono dotata di ginocchiere vere perché sabato scorso è stato un disastro bando alle ciance ok ci ho detto detto ciò andiamo a cofonarci quindi ci guardiamo negli occhi dallo slancio il braccio destro reattivo tutta la vetina posteriore in questa posizione ho la schiena completamente a terra quindi è incomoda a un certo punto di vista delle onde con le gambe movimento standard inolato delle zone devono muovere come se stessi muovendo quindi non devo fare questo anche se lo faccio lento ciò prossimo in direzione di questa con il video chicca le chicche se il vaccino sale da un lato il petto è assurdo stanno sempre accentuati vedete da questo twist di vaccino il vaccino sale quindi questa è una cosa molto molto importante perché quando andremo a settare il mediter la parte di M ok io devo girarmi e trovarmi già in questa posizione che in atto la schiena raccolgo tutte e due le ginocchia verso il petto e poi subito oh scrancio la gamba destra per vedere la gamba forse effettivamente di fronte al mio pubblico che in questo caso vado a sé con la mia vita e è fondamentale coordinarsi imparare a camminare in questo modo sono un amante delle wave leg vado ad applicare la teoria che avevo insomma di prima la gamba si piega e l'altra si stende quella che si piega di bassina quella che si stende si allontana sempre dal gusto ovviamente fa da timone il movimento del vaccino come si diceva prima quindi attivo gli obliqui raccolgo il vaccino e raccolgo la gamba tricchia e ballacchia tricchia e ballacchia sette secondo clock 8 e su vedete che da dove cominciate più o meno nei paraggi dovete finire 1 torno e 2 torno e incrocio cambio scampate e su 2 3 4 di questa coreografia dovete andare ad unire le informazioni che vi ho dato la prima volta con queste informazioni questa seconda volta e fare un capolavoro 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10